Oggi rispondiamo alla domanda delle domande. Perché Koji Kabuto non prende il Mazinga Z per aiutare Duke Fleet nella saga di Goldrake, o meno la sua controparte animata, quella che abbiamo amato di più? La risposta è molto semplice. Il maestro Nagai, con i disegni di Koji Kabuto, ce lo spiega in questa opera, che potete trovare anche nella collezione Manga Super Robot. È il numero 3. In una delle prime pagine di questo terzo volume, infatti in una bellissima vignetta che vedete, ci spiega proprio perché non arriva Mazinga Z ad aiutare il Grandizer. Se vi interessano queste o altre curiosità su questo argomento, venitemi a seguire sul canale YouTube. E Mazingo a tutti!